Prova, inserimento e disinserimento filtro passabanda 435 MHz, sempre con relais coassiale 4 porte bistabile. In questo caso, generatore 145 MHz, 0 dBm, segnale di uscita bypassato dal relais, abbiamo 145 MHz, circa 0 dBm. Faccio la commutazione ed il filtro viene inserito. Chiaramente passabanda, 145 MHz, mi attenua i 145 MHz di circa 53 dBm. Perdonate. Quindi abbiamo fatto anche questa prova. Grazie.